Peppino Impastato, Giorgio Ambrosoli, Gaetano Marchitelli, Michele Fazio, tutti vittime di mafia e tutti rappresentanti di età, culture ed epoche diverse, sintomo che la mafia è radicata profondamente nella società. Un politico e conduttore radiofonico impastato, un avvocato Ambrosoli e due giovani colpevoli di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A ricordare, ma non solo, le vite di questi grandi, l'Associazione Magistrati di Bari, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e con molte associazioni, presenta il progetto L'Edificio della Memoria. È un tentativo per noi di dare voce, voce non soltanto ad un ricordo, per cui non sono persone che vengono qui a ricordare semplicemente, ma ad attestare un impegno passato, un impegno presente e soprattutto una speranza per il futuro. I tre incontri, in forma di intervista, aperti al pubblico e in particolare agli studenti, cominciano domani all'Ordine degli Avvocati con Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Il 14 gennaio sarà la volta di Umberto Ambrosoli, figlio di Giorgio Ambrosoli. È un servitore dello Stato che ha pagato per aver fatto bene, con diligenza, con professionalità, con serietà, il suo lavoro, colpito probabilmente anche lui da una parte di quello Stato che invece non serve gli stessi obiettivi. L'iniziativa si concluderà il 18 febbraio con le voci delle mamme di Marchitelli e Fazio, uccisi per sbaglio dalla mafia, intervistate dalla nostra direttora Ana Maria Ferretti. I tre incontri saranno trasmessi in diretta streaming da Antenna Sud. È importantissima questa partecipazione con Antenna Sud che ringraziamo per la sensibilità dimostrata ancora una volta sui temi della giustizia. Ci consente di abbracciare, di far partecipare a questi incontri tutti quelli che lo vorranno collegandosi appunto col sito di Antenna Sud, estendendo la platea degli nostri partecipanti.